I pneumatici sono equipaggiati di un tassello per il controllo dell'usura. Questo è per legge un millimetro e mezzo. Quando questo tassello è pari, vuol dire che il pneumatico è usurato. A questo punto non è più idoneo per viaggiare. Naturalmente per legge è questo, i pneumatici a 3 mm già incominciano ad avere qualche problema. Questo è un pneumatico semi-usurato. Si vede dal tassello che è molto più basso in confronto al battistrada. Questo è un pneumatico ancora da poter usufruire. Al prossimo episodio Grazie.